Fermiamo il tempo anche solo per un attimo. Restiamo così. Io non vado da nessuna parte. Potrei essere tua madre. Ma non lo sei. Lui è Elia. Credi a uno che hai appena conosciuto e non credi a me che sono tuo figlio? Ti sta usando! No, lei non lo sa quello che vuole. Pensa che sia tutto vero. Grazie per la visione!